Buonasera a tutti, siamo qui dalla sala stampa dell'autodromo Enzio Dino Ferrari di Imola, abbiamo qui con noi Arno Trolli, salutiamo. Ciao a tutti. Io partirei subito con un'impressione su quello che è stata la manifestazione di oggi al tamburello. Una bella giornata per fortuna di sole che ha accompagnato tutti i tifosi in generale, non solo di Ayrton ma della Formula 1 e delle grandi emozioni che poi Ayrton ci ha saputo trasmettere e regalare durante i suoi anni. Purtroppo è venuto a mancare e questo ci ha riportato tutti qui dopo 20 anni a ricordarlo come pilota ma anche come persona. Io sentivo che tu correvi, quel giorno correvi in kart, giusto? Quindi non hai festeggiato, è stata un po' una cosa che ha colpito tutti nell'intimo questa scomparsa. Certamente quando muore un pilota in un weekend che ricordo ancora fu devastante perché ci fu un incidente di barichello, la morte di Ratzenberger al sabato e poi la scomparsa di Ayrton alla domenica non è un weekend che ti dimentichi facilmente soprattutto lascia il segno. In più ci ha portato via uno dei più grandi interpreti della Formula 1 di quegli anni ma non solo, ripeto, non solo alla guida era una persona di grande comunicazione che sapeva regalare tante emozioni e emozioni che poi hanno legato tutti gli appassionati e non a questa figura di Ayrton. Per descriverlo un aggettivo solo dai te lo chiedo così almeno sei... Io credo, io non l'ho conosciuto quindi è difficile da dire, per me era sicuramente una persona molto speciale. Oggi ne abbiamo tutti dato una dimostrazione, però credo che lui ci abbia lasciato tanto, soprattutto la sua scomparsa assieme a quella di Ratzenberger abbia segnato un inizio per una grande lotta alla sicurezza che noi piloti giovani di oggi e i futuri stanno raccogliendo e con diciamo molta importanza perché oggi sappiamo tutti che le macchine sono molto molto più sicure purtroppo grazie alle disavventure dei piloti passati.